Amici 22, un'eliminazione sofferta genera l'ennesima protesta, di chi si tratta? La quinta puntata del serale di Amici ha visto l'uscita di un altro allievo amatissimo del programma, di chi si tratta? La puntata del serale di Amici in onda sabato 15 aprile ha visto arrivare allo scontro finale due teste di serie di quest'edizione del programma, Federica e Ramon. Dopo una guerritissima sfida, alla fine, è stata eliminata la cantante Federica, finita al ballottaggio, oltre che con il ballerino, anche con il cantante Cricca. Sui social è scoppiata l'ennesima protesta dopo il verdetto. Secondo molti telespettatori che seguono le vicende del talent, la giovane allieva di Arisa non avrebbe meritato di uscire a questo punto del programma, considerando che mancano ancora varie puntate alla finale. In particolare, gli utenti di Twitter sostengono che Federica fosse un elemento più valido dell'altro cantante con cui si è sfidata, ovvero Cricca. C'è da dire che quest'anno le eliminazioni hanno generato una polemica dopo l'altra. La piega presa dal programma sembra non star piacendo affatto al pubblico, che continua a protestare contro le scelte prese dai giudici e dal regolamento. La piega presa dal programma sembra non star piacendo affatto al pubblico, che continua a protestare contro le scelte prese dai giudici e dal regolamento. La piega presa dal programma sembra non star piacendo affatto al pubblico, che continua a protestare contro le scelte prese dai giudici e dal regolamento. Seguendo il consiglio della conduttrice, il cantante si è commosso durante l'esibizione, scoppiando, poi in una vera e propria crisi di pianto. Ovviamente, Maria ha subito cercato di consolare Cricca, che, a quanto pare, ha avuto una settimana piena di dubbi e incertezze. È da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero, ha esclamato la De Filippi. Vedendo l'allievo di Lorella Cuccarini in seria difficoltà, la presentatrice ha poi deciso di fermare la registrazione e andare in pubblicità, così da dare al giovane romagnolo il tempo di riprendersi.